Alessandro Di Battista, benvenuto. Prego, si accomodi. Buonasera. Ha sentito... Sono contenta di conoscerla. Molto piacere. Buonasera. Allora, in libreria con ostinati e contrari per Paperfest, ha sentito i ragionamenti alla professoressa Fornero. Che riflessioni fa? Io, diciamo, prima da cittadino, poi da parlamentare del Movimento 5 Stelle, ho contestato alcune misure del governo Monti, pur apprezzando fondamentalmente lo stop alle Olimpiadi di Roma del 2020. E, ascoltando la Fornero, dico che ha ragione. Fondamentalmente sta descrivendo la realtà dei fatti. Il governo, prima sentivo, è un governo di destra, qualcuno ancora è un governo fascista. Fondamentalmente, ad oggi, guardando l'inizio della legge finanziaria, poi arriverà in Parlamento, ci saranno anche un sacco di emendamenti localistici. Lo dico ai cittadini. Guardate le marchette che vengono fatte poi in commissione bilancio durante le leggi finanziarie, perché questo governo ci ha messo 800 milioni, sono un sacco di soldi, gli stessi che hanno rimediato, tra l'altro, aggredendo il reddito di cittadinanza, e sono emendamenti che ogni parlamentare utilizza per farsi un po' di propaganda territoriale. Sono delle marchette, per me sono delle oscinità, e le ho vissute, quei fatti. Anch'io, anch'io. Quindi mi dà ragione. Oh sì. E poi in questo c'è da dire che l'ex ministro Fornero, io la rispetto perché poi non ha mai utilizzato il suo ruolo per continuare a fare politica, evidentemente non ha avuto mai nostalgia per il palazzo, anche io non ho particolare nostalgia per il palazzo. Quello che dico però, che il governo Meloni, mi sembra un governo gentiloni, con la Meloni che ci sa fare moltissimo dal punto di vista della comunicazione, in conferenza stampa, prima ha attaccato dei giornalisti quando onestamente il trattamento che gran parte della stampa riserva alla Meloni è molto simile a quello che riservava al presidente Draghi. Io non vedo che vi sia una stampa, un sistema mediatico contro di lei, anzi l'opposizione, soprattutto da parte del Partito Democratico, è inesistente. Mi sembra questo un governo molto simile al governo Gentiloni che al posto di piazzare 23 miliardi sul caro bollette, giustamente poi hanno messo due terzi sul caro bollette, una cosa giusta, sia chiaro, li metteva sulle clausole di salvaguardia per neutralizzare l'IVA, ma poi dal punto di vista politico manca il coraggio. Io noto appunto che... Però manca il coraggio, la professoressa diceva un'altra cosa, manca proprio la possibilità di realizzare le promesse che non stanno né in cielo né in terra. Allora, io comprendo perfettamente che i soldi non siano infiniti. Io ricordo quando venne approvata una legge anticorruzione, per me anche utile, nel disinnescare la prescrizione che per me poi produce anche sul lungo andare danni alle casse dello Stato. Ho sempre pensato che una legge sul conflitto di interessi fosse necessaria per aumentare il gettito fiscale, perché... Sì, però la legge Fornero non si può abolire, perché poi i mercati non ci prestano i soldi. No, sto arrivando a questo. Ritengo che... Pensando di trovare i denari, cosa che sta facendo oggi la Meloni, soltanto prendendo sarà con dei disgraziati che ricevono il reddito di cittadinanza, io prima sentivo il dibattito, pare che i percettori del reddito di cittadinanza siano il problema principale in un paese con quattro organizzazioni criminali, con un'evasione che... alle stelle, con le opere pubbliche che costano mediamente un terzo rispetto agli altri paesi europei a proposito di soldi. Quindi, secondo me, superare la legge Fornero, se si trovano dei denari, banalmente, non aumentando le spese militari al 2% del PIL, cosa vuole fare Crosetto, oltretutto chiedendo che queste spese militari non facciano parte del patto di stabilità crescita. Serve un po' di fantasia, dice lei. No, non serve fantasia. Di coraggio e fantasia. Poi, non sono io che portavo avanti per anni le idee sovraniste. In questo ha ragione la Fornero quando criticava Salvini, tra l'altro condoglianze alla famiglia Maroni e a tutta la comunità della Lega e al segretario Salvini. Una bravissima persona. Perché non sono stato io a dire per anni la Fornero va cancellata e tutto quello che ha detto. Ha ragione la Fornero quando dice che non viene cancellata. Forrò una domanda alla professoressa Fornero. Io non credo, Floris, che il vincolo esterno ci dia futuro. La Fornero sostiene che il vincolo esterno garantisce un minimo di stabilità al Paese e darà delle opportunità. Questo è il nodo. E questo è il nocciolo. Sul fatto che lei sostenga... La faccia rispondere, però. Scusi. Che questo sia un governo molto più simile al suo ha ragione. Guardi, io credo che il vincolo esterno vada preso nella sua interezza. Il vincolo esterno non ci impedisce di investire, di spendere per la scuola, di spendere per migliorare la sanità pubblica. Ma si può rifiutare il vincolo esterno? si può rifiutare il dato di fatto? Ma scusi, quando lei deve prendere a prestito qualcosa che è più di un miliardo al giorno e lo chiede al mondo finanziario che cosa vuole pretendere? Quelli qualcosa hanno... Allora, brevi negli scambi e prego. Mi faccia dire una cosa. Noi, il nostro governo tanto vituperato, una tassa sui patrimoni l'ha messa e ci hanno caricato anche qualcuno della sua ex parte politica di improperi di improperi allora, quello era un modo per dire che e c'era anche nella riforma previdenziale chi sta meglio deve pagare di più proporzionalmente di più questo è il punto Di Battista Alessandro Di Battista mi può definire il populismo? Cos'è? Ma io non... Cioè, quando a me è definito populista io non mi sono mai sentito insultato perché per me io do un'accezione estremamente positiva alla parola populismo significa tentare di comprendere quelle sono le esigenze primarie della popolazione vincolo esterno però, dottoressa Fornero fondamentalmente i mercati allora, io poi posso pensare che negli ultimi 20-30 anni la politica abbia dedicato sostanzialmente e viviamo in un regime finanziario in cui la politica conta sempre meno però parlavamo di vincolo esterno ecco, parametri europei fondamentalmente il patto di stabilità e crescita è del 97 si basa sul trattato di Maastricht del 92-93 sono passati 30 anni dal trattato di Maastricht nel frattempo c'è stata la guerra in Bosnia i bombardamenti nato su Belgrado la crisi dei subprime la guerra in Libia che ha provocato l'aumento dei flussi migratori e c'era la Meloni e Crosetto al governo e la Russia era ministra della difesa il Covid la guerra in Ucraina cioè io reputo lo stesso Draghi prima di diventare presidente del Consiglio rilasciò quell'intervista al Financial Times sostenendo dobbiamo fare debito per salvaguardare famiglie e imprese Draghi poi è entrato al governo prendendo il posto di Conte per me fatto fuori perché aveva fatto eccessivi scostamenti di bilancio a detta della tecnocrazia europea e poi fondamentalmente Draghi ha messo il pilota automatico e la Meloni sta facendo le stesse identiche cose che ha fatto Draghi mettendoci un po' in quel caso non di populismo ma di propaganda contro determinate persone che per me hanno bisogno perché poi lo dico a tutti il 20% dei percettori in reddito di cittadinanza lavorano quindi tra coloro che sono occupabili e che probabilmente esatto che significa che gli arrivano 200 euro di differenza secondo i calcoli di Tridico ma lei rimane con noi quindi tutti questi temi li potrà dire però dice di Battista guardate che il vincolo esterno in qualche misura si può o rivedere o rifiutare sono passati 30 anni dai trattati di Mastri ma lei sa la regola per cambiare queste cose e chi cambia le regole chi comanda in Europa vogliamo che ci sia uno che imponga le regole agli altri e quando tu hai a che fare con dei governi come quello di Orban questi governi che sono di destra e come fai li mandi fuori non è Orban il problema dell'Europa oggi no ma magari è la Danimarca no la Danimarca neanche è l'Olanda dal punto di vista dei parametri di bilancio e delle regolette fondamentalmente la Germania però in una democrazia si va con delle regole e noi stiamo noi io mi ci identifico e lo faccio soprattutto per i giovani ci vogliono delle regole condivise perché altrimenti si lascia a qualcuno il potere di decidere per metterti d'accordo con qualcuno io vorrei cambiarle come lei le regole ma bisogna trovare un meccanismo che rispetti ma oltre il meccanismo anche degli interpreti immagino cioè una cosa e se arriva Matteo Salvini o Giorgia Meloni nel momento in cui dicono dobbiamo uscire dall'euro oppure Giorgia Meloni con Giorgetti adesso sta cambiando qualcosa Tornero Di Battista intanto guardi in politica come in ogni ambito la reputazione conta e qualcuno che si porta il fardello di una reputazione di questo tipo di essere contro l'Europa di essere contro la politica europea di essere contro la redistribuzione e beh in Europa ha certamente meno credibilità però ha bisogno dell'Europa questo governo persino Salvini forse lo comprende e quindi eh no questo è importante e allora bisogna che ci sia questa cooperazione per cambiare le regole ci stanno provando vuol dire che cambieranno il patto di stabilità nel modo che lei io spichiamo io non credo credo che sarà un tentativo che magari ci dà ancora molte insoddisfazioni non ci dà uno scatto in avanti poi ho sentito Santoro ed è vero che l'Europa manca tremendamente in questa guerra manca ma voi vi aspettate una cosa su cui forse sarete d'accordo vi aspettate novità da cartello 43 e 44 allora il governo del grande rinnovamento del paese è formato fondamentalmente dalle stesse persone che nel 2011 anticiparono il suo governo cioè portarono le condizioni dell'economia a un punto per cui ci si dovette rivolgere a Mario Monti e del Saffornero Giorgia Meloni era ministro Guido Crosetto era sottosegretario alla difesa ha fatto solo un passetto in più Adolfo Urso ha fatto lo stesso passetto vice ministro Daniela Santanchè è diventata ministro Nello Musumeci da sottosegretario al lavoro è diventato ministro così la Casellati è diventata ministro e prima era sottosegretario Raffaele Fitto era ministro dei rapporti con le regioni ad esse dell'Europa quindi di più Anna Maria Bernini ministro delle politiche europee ad esse delle riforme Calderoli era ministro della semplificazione più o meno è la stessa cosa la Rocella da sottosegretario al lavoro e alla salute è diventata alla famiglia e Alfredo Mantoveano da sottosegretario all'interno è diventato sottosegretario alla presidenza del consiglio ma sono gli stessi? sono gli stessi e non c'era anche allora hanno cercato di far passare il teorema della congiura contro il governo no è che quel governo esprimeva delle politiche fallimentari fino a che è arrivato in una situazione di stallo nella quale non prendeva più alcuna decisione ma chiedeva prestiti chiedeva soldi alla banca centrale la quale banca centrale ha detto al governo caro governo noi siamo disposti a comprare titoli del tuo debito ma vogliamo che tu faccia alcune cose io non credo che la banca tra quelle cose c'erano la riforma delle pensioni e la riforma del lavoro la famosa lettera della BCE il pareggio del bilancio strutturale di Battista va anche a favore dei suoi bambini no io non sono d'accordo perché se io spendessi a debito soltanto per rimettere in sesto questo paese sarei d'accordo lo farei insieme a lei in debito ma se invece noi facciamo debito sempre un po' per le pensioni un po' per le stravaganze delle leggi di bilancio via un minuto di risposta di Battista prego allora io non ho mai pensato alla narrazione del colpo di stato poi si figuri che se io possa difendere il governo Berlusconi e gli sono andato sotto casa ad Arcor a leggere la sentenza dell'Utri ma quella letterina tra i scedraghi fu un atto ostile nei confronti dell'Italia e fondamentalmente quel governo Berlusconi un governo pseudo politico non volle prendersi una serie di responsabilità che si presero dei tecnici per obbedire a quella letterina che conteneva la richiesta di riforma Fornero il superamento dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e appunto l'istituzione del pareggio bilancio in Costituzione criticato tra l'altro da l'ex ministro Orlando del Lavoro che lei ha votato perché ha detto che ha votato il Partito Democratico io non sono d'accordo sul pareggio bilancio in Costituzione uno perché poi da cittadino quella riforma venne approvata in fretta e furia anche se incardinata da Giorgetti che era presidente della commissione bilancio senza un dibattito adeguato né in Parlamento e per me nel Paese ma soprattutto credo concludo Floris che in determinati momenti storici tant'è che gli scostamenti di bilancio in epoca Covid sono stati fatti e oggi la Germania ci vuole mettere 200 miliardi di euro sul caro bollette siano un diritto dei governi perché indebitare fare diciamo debito in un momento storico drammatico è l'unico modo per fare delle politiche professoressa dobbiamo fare una piccola pausa un flash ce l'ha la capacità mi sarebbe molto piaciuto lei come studente nei miei corsi di macroeconomia pensa quanto prendeva grazie professoressa Alessandro Di Battista resta con noi piccola pausa grazie Alessandro Di Battista Magliorino cartello 26 allora spieghiamoci questa scuola più fondi alle parità arrivano 70 milioni alle scuole private e gli studenti sono scesi il 20% agli ultimi 15 anni il contributo per studente sale da 500 a 765 euro Di Battista Magliorino secondo me questo è un segnale invece importante è vero quello che hanno detto loro due rispetto a le proposte di legge i parlamentari le depositano io non ho mai pigiato il bottone francamente e ho anche sempre criticato il fatto ho sempre anche fatto battagli sul fatto che la decretazione d'urgenza fosse in un certo senso anche anticostituzionale perché fino a prova continuata siamo una repubblica parlamentare e invece il ruolo dei parlamentari è sempre più ma è rappresentativa della cultura al governo secondo me come anche un eccesso come anche fosse questo sì allora io banalmente sono contrario a finanziare scuole paritarie con denaro pubblico e sono cattolico perché spesso e volentieri molte scuole paritarie sono scuole che appartengono a istituti religiosi questo perché ritengo che sia anticostituzionale anche se poi la costituzione si reaggira facilmente l'articolo 33 dice che enti e privati hanno diritto a istituire istituti scolastici o scuole senza oneri per lo Stato 70 milioni di euro in questo momento appunto sono dei denari pubblici che vanno fondamentalmente le scuole paritarie poi non sono né statali però neanche del tutto private sono appunto paritari mi dica che cultura c'è dietro questa destra perché poi con Maiorino dovete discutere che cultura c'è all'opposizione non c'è nessuna cultura io fondamentalmente io la penso in maniera diversa dalle signore qui presenti sul fatto che loro insistono molto su estrema destra e compagnia cantante su alcune esternazioni appunto rispetto agli omosessuali hanno ragione ma ritengo che tutto questo sia come diceva lui in un certo senso tirare fuori parlare di scemenze per non andare al nocciolo delle questioni il nocciolo delle questioni scusate arriviamo al nocciolo poi di Cesare poi di Cesare poi una domanda per Maiorino in una conferenza stampa in cui la Meloni dice i due terzi vanno al caro bolletti durante una crisi energetica in pochi hanno avuto il coraggio di formulare delle argomentazioni delle obiezioni delle domande al Presidente del Consiglio rispetto alla strategia in Ucraina e fino a che non si trova lì una soluzione i 23 miliardi io sono d'accordo con l'ultima affermazione che ha fatto l'eurodeputato Maiorino in bocca al lupo per la sua candidatura quello che secondo me non è credibile del suo partito banalmente Letta oggi ha subito dichiarato dovremmo fare una manifestazione contro una misura di macelleria sociale una finanziaria lacrime e sangue che per me è una finanziaria draghiana io la principale critica che ho sempre fatto alla Meroni è conformista draghiana e non fascista o sovranista ma chi sbandierava l'agenda Draghi in campagna elettorale era Letta chi non ha votato il reddito di cittadinanza quando è arrivato in Parlamento le prime volte sono i deputati del Partito Democratico Maiorino